E allora per gli eventi ho proposto, spero che passi, la scopellita era d'accordo, abbiamo fatto un comitato per tre eventi in questa primavera estate che riguarda una notte dedicata, due giorni, dedicate ad Alvaro. Abbiamo un palazzo Alvaro, poi a Dante sono i 700 anni e grazie al professore Aldo Maria Moraggio che è segretario nazionale italianisti, docente pro-rettore dell'Università di Sassari e mille altre cose, uno dei grandi intellettuali di questa città che è in questi giorni qua ma che vive a Sassari. E cosa abbiamo pensato? Con Dante sullo stretto, siccome nella mia commedia ci sono i miti di Scilla, di Ulisse che passa, le sirene eccetera, faremo un evento. Terzo evento sarà invece, a cui tiene molto il nostro comune amico e tanti altri che è Daniele Castrizio, sulla Magna Grecia però rivisitata oggi.